sì ok no mi sente sono ma se adesso la senti sentiamo mancano soltanto un paio di ragazzi mi pare ancora quindi manca abbiamo detto quando volevo le volevo dire comunque che mia classe un po di problemi hanno detto che hanno fatto l'accesso su nome e cognome le hanno bannati cognome e nome non il nome cognome nome ma anche nome cognome in realtà non li stiamo togliendo stiamo tornando solamente chi inserisce solamente il nome un ragazzo che ho tolto che mi ha anche contattato dalla classe tua che adesso dici che le chiede una password io non so cosa farli a me dice di lui dice anche andrea dice c'errore tecnico non so nemmeno in realtà la piattaforma instabile visto che siamo 320 persone lo so che è stabile però alcuni dicono così io vedo anche alcuni miei compagni li vedono l'anno scorso però questi problemi non li avevamo era più semplice entrare su youtube forse chissà no prof perché così sappiamo tutti nome e cognome quelli che stanno dentro su youtube non sapevamo chi c'era questo è così è molto più pulita come assemblea più controllata sicuramente assolutamente molto meglio così e non è neanche difficile non so perché stanno avendo problemi la prossima volta magari facciamo facciamo una prova probabilmente qualche giorno su youtube per spiegare gli altri come funziona non c'entra niente il video pure ieri mi hai spiegato le cose però oggi mi arriva tutt'altro ieri mi ha detto ti mando la password e poi la password non lo so non me l'accettava e vabbè allora possiamo iniziare quindi vediamo chiappierini cisternino coviello giuliano avitto questi sono gli ammessi a parlare giusto si mancano un altro paio e poi man mano che si inseriscono riusciamo a sentirli va bene mi dispiace per il ragazzo del traetta dobbiamo fare in modo che possa parlare riservando il ragazzo del traetta non si preoccupi in ragazzi risolvete anche per il docente caritano de leo che dovrebbe dovrebbe apparire come come si chiama come non appare non appare perché non ha avuto il codice per apparire perché comunque va bene così tanto voglio dire se hanno dei fatti agli interventi ma di solito interventi nell'assemblea che non siamo non abbiamo già programmato quindi allora perché gli stavo scrivendo come fare come ho fatto io no vabbè lui entrerà con il codice come qualunque docente lui deve entrare come qualunque dopo scrivo così quindi poi vediamo per le prossime volte cosa accade va bene la preside voleva il link nicola la preside l'ha ricevuto il link ok quindi eventualmente sì mi ha scritto che sei occupata se riesce si faccia non riesce ad entrare il professor cacio sito webex deve fare sì sito web si deve cliccare un link semplicemente sul browser deve mettere un link class su squadra docenti è così entrato il ragazzo del traetta prof ma che gli dategli il coordinamento già già fatto già fatto già fatto ok va bene ogni modalità le sue complicanze no in presenza avevamo altri problemi quando siamo online stiamo più comodi perché siamo a casa però i problemi possono essere di ok ed entrato anche gaetano castellano gli ho dato ci sono i candidati così inizio manca solo un candidato che io non vedo manco dentro quindi chi è di dove nel traetta no no è il nostro dell'industriale dell'industria vabbè si angelo narciso io direi di iniziare ok strada facendo magari riuscirà ad inserirsi allora buongiorno a tutti e chiedo scusa sicuramente per il ritardo rispetto alla nostra tabella di marcia ma come avete visto in diretta i problemi sono tanti è la prima assemblea è il primo giorno di ritorno a scuola in questa forma come direi assembleare per cui le difficoltà sono tante stiamo sperimentando questa nuova piattaforma abbiamo anche provato più volte però i problemi poi si verificano strada facendo l'importante è avere la pazienza di aspettare e di ascoltare quello che abbiamo da dire perché è importante oggi questa assemblea perché domani sapete che ci saranno le lezioni dei vostri rappresentanti nei diversi organi collegiali che vedono la presenza degli alunni e che sono appunto il consiglio d'istituto poi abbiamo la consulta e poi abbiamo una votazione da fare per giovani in consiglio che è un progetto della regione puglia che vede una sorta di scuola se vogliamo di formazione politica dei giovani e che dura per due anni questa esperienza e l'anno scorso come vedete ci ha inquadrato l'alunno cisternino giuseppe lo ha fatto lui per due anni poverino si è trovato a doverlo fare semplicemente in dad mentre sarebbe stato bellissimo essere presenti perché ogni volta erano esperienze nuove con rappresentanti politici del mondo diciamo della cultura in dad forse è stata un'esperienza un po' più limitante però però anche quest'anno si rinnova perché abbiamo detto quindi anche quest'anno dovremmo provvedere ad eleggere vedremo chi è il candidato non abbiamo un candidato nostro però poi vi parlerà di questo l'alunno Chiapperini per chi scegliere di votare allora prima di iniziare però la presentazione dei candidati io voglio iniziare con un video siccome il tema è proprio la scuola e i suoi problemi allora il video che da qui voglio partire è il video di augurio dei nuovi come dire obiettivi da raggiungere e di risultati da conseguire alla fine dell'anno ed è appunto il saluto che fa la dottoressa Loredana Capone che è la presidente del consiglio regionale della Puglia quindi avrete modo di conoscere appunto questa dottoressa Capone che è stata già aveva già un'esperienza precedente come assessore alla regione Puglia e che adesso seguirà anche insieme ad altre persone il progetto di cui vi dicevo giovani in consiglio se Davide è pronto partiamo da questo video ci siamo possiamo mandarlo in onda per quanto riguarda allora Chiapperini ti do il relatore va bene deve darlo a Scaraggi prof Scaraggi ok Scaraggi ti do subito il relatore tu sai come fare Scaraggi ok poi ripassami il relatore quando hai terminato e poi ce ne saranno altri però non è che ogni volta deve fare così il relatore è uno è per volto speriamo che si senta bene buongiorno a tutte e a tutti a voi ragazzi a dirigenti scolastici a tutti i docenti al personale di tutta la scuola eh un in bocca al lupo da parte mia e chi l'avrebbe detto che ci sarebbe stata tanta gioia nel ritrovarsi dopo questo tempo ritornare a scuola io penso che sia stato veramente uno dei desideri più grandi dei ragazzi e delle ragazze ritrovarsi far decollare la curiosità per la conoscenza per la scoperta di tante cose che si imparano a scuola e soprattutto la gioia ecco di rivedersi di potersi rincontrare tra i banchi di scuola dopo tanta dad ora eh abbiamo davanti un nuovo anno scolastico eh anche io ho voglia di vedervi eh con nuovi progetti eh con la possibilità per esempio di ritrovarci con il consiglio regionale dei ragazzi a proposito il bando eh è pronto e poi di eh vederci anche con riferimento al progetto che facciamo su Aldomoro sui costituenti pugliesi un progetto che ci vede impegnati insieme eh nella mh analisi eh di quello che è successo eh riguardo ad uno statista così importante e poi eh ovviamente è bello cominciare un nuovo anno sapendo quante cose eh si possono sapere anche insieme eh con lo studio eh del piano nazionale per la ripresa e la resilienza eh che è questo piano gigantesco che attraverso i fondi erogati dall'Europa eh l'Italia potrà utilizzare per migliorare le proprie condizioni di sviluppo e ridare finalmente ossigeno alle imprese, agli operatori eh che in questi anni hanno sofferto eh un rilancio ci vuole deve essere un rilancio non solo economico ma anche sociale abbiamo bisogno di considerare sempre più l'Europa dei diritti eh l'Europa che eh si comporta come un organismo che tiene conto dei singoli stati ma è sempre più forte in uno scenario mondiale che questa forza richiede eh perché eh ne va della democrazia ne va del rispetto eh della concorrenza ne va del rispetto dei diritti di ciascuno di noi e poi eh sarà importante anche eh quest'anno scolastico con riferimento a voi a ciascuno di voi eh la scuola potenzia le capacità che a ciascuno fa emergere tanti talenti e aiuta anche a scoprirsi per immaginare il proprio futuro per continuare a sognare ma sognare qualcosa che si vuole diventare o si vuole essere ecco io eh voglio darvi l'augurio soprattutto su questo io spero che i vostri sogni si realizzino spero che ciascuno di voi scopra eh quello che meglio e più vuole e può fare per poterlo realizzare in bocca al lupo a tutti voi bene allora ragazzi io penso che eh abbia detto molto di quello che avrei voluto dirvi io il ritorno a scuola è stato un ritorno eh che ha entusiasmato tutti quanti noi veramente noi docenti non aspettavamo altro a voi la DAD sotto certi aspetti è piaciuta stamattina mi collegavo con la mia classe e uno di questi diceva ai compagni ah che bella la DAD no perché stavai comodamente a casa però ha creato anche grossi problemi diciamo eh di socializzazione perché la scuola è vita è una comunità non è soltanto formazione educazione è anche un modo per potersi relazionare con i cotani con gli adulti quindi il ritorno a scuola era un ritorno che noi tutti aspettavamo però stiamo riscontrando diversi problemi è chiaro che due anni di DAD hanno inciso profondamente non solo sulla formazione di base di molti di voi ma hanno inciso proprio sulla capacità di stare fermi di stare in classe di stare attenti e noi notiamo soprattutto nei ragazzi di prima notiamo questa difficoltà quindi bisogna lavorare tantissimo sulle regole bisogna lavorare tantissimo sugli obiettivi che si devono raggiungere obiettivi che noi come docenti in ogni consiglio di classe ci stiamo ponendo con le nostre programmazioni i piani di lavoro stiamo programmando le attività i PON tutto quello che sarà fatto durante l'anno ma gli obiettivi devono essere condivisi dai ragazzi quindi noi dobbiamo sempre cercare il vostro consenso perché necessariamente se non si tiene una classe ordinata come dire predisposta all'ascolto alla comprensione reciproca dei problemi è chiaro che questi obiettivi non si possono raggiungere e allora io sono ripeto contentissima di essere tornata in presenza come lo sono i miei colleghi proprio non aspettavamo altro di riprendere i contatti con voi e anche con le attività che potevate fare prima nei laboratori anche se magari noi in questo momento stiamo avendo dei problemi però poter accedere ad un laboratorio poter fare attività fisica con i compagni sicuramente è un qualcosa che mancava a molti di voi e vediamo che cosa si intende e quali sono le aspettative dei giovani sul mondo della scuola avete fatto degli scioperi avete fatto delle proteste a volte anche le abbiamo condivise noi per avere aule turni migliori eccetera il mondo della scuola è sempre stato un oggetto diciamo da scoprire come mondo perché è ampio quello che è l'aspettativa che si è anche è ampia l'aspettativa della società sul nostro lavoro di docenti ieri giusto per dirvi come sapete molti di voi lo hanno sentito il presidente Draghi è venuto qui in Puglia a Bari ha visitato un'azienda della zona industriale e ha anche visitato un istituto di alta formazione istituto con il quale noi abbiamo collaborato perché spesso alcuni ragazzi dopo il diploma si sono iscritti per raggiungere appunto questa formazione di eccellenza e Draghi vi faccio riferimento a quello che diceva la dottoressa Capone sul PN il piano nazionale di resilienza che sta mettendo appunto il governo Draghi ha detto che gran parte dei fondi di questo piano saranno dedicati alle scuole in particolare agli istituti tecnici quindi c'è un'attenzione particolare sul tipo di scuola che voi state frequentando perché sarà appunto una scuola che dovrà sempre di più formare persone esperte tecniche perché è questo che richiede l'Italia in questo momento quindi i ragazzini anche dal primo anno devono sapere che frequentano una scuola che sarà una scuola che darà loro la possibilità di trovare lavoro quindi si devono formare e allora io adesso vedrei il secondo video sempre con Davide ci sei Davide il secondo video quello sulle aspettative di un ragazzo che parla proprio della scuola e sarebbe stato il mio primo video che mi hai mandato tu giusto per intenderci quello più breve vediamo cosa si intende per mondo della scuola e cosa ci si aspetta da una scuola come dire più moderna ci siamo ok io dirò un'opinione puramente personale ma credo che possa raffigurare in realtà l'opinione di tanti miei coetanei io sono un po' pessimista per quanto riguarda la scuola e soprattutto il nostro futuro in che senso adesso lo spiego pessimista perché perché io credo che per creare un futuro un giovane bisogna creare una base solida fondamentalmente questa base solida è l'istruzione ok quindi medi, elementari superiori università eccetera quindi tutto quello che è il sistema scolastico io credo che il sistema scolastico deve essere rivisto dall'insegnamento dall'approccio piuttosto che dalle materie insegnate ma perché dico questo perché siamo nel 2021 e anche se non ce ne accorgiamo il mondo sta cambiando sta cambiando anche velocemente e le tecnologie sono cambiate è cambiata la valuta quindi dalla lira all'euro adesso si pensa che si cambierà valuta addirittura digital euro o bitcoin sono cambiati i lavori è possibile che l'unica cosa che non è cambiata è il sistema scolastico che è uguale da 100 anni io non sono qua per criticare il sistema scolastico e dire che non va bene sono qua per incitare il sistema scolastico a evolversi quali possono essere queste soluzioni una soluzione potrebbe essere rinnovare le strutture come diceva la ragazza nel video io le assicuro che ho studiato in Canada l'anno scorso a Toronto e hanno delle strutture completamente nuove completamente piene di tecnologie io posso assicurare a tutti gli aspettatori che andare a scuola in una scuola vecchia di 20 anni in una scuola nuova appena fatta cambia molto oppure le materie insegnate per esempio perché a scuola non si insegna economia perché non si insegna politica che sono cose che in realtà tutti i giorni noi viviamo oppure perché non si insegna imprenditoria per dare spazio alle idee dei ragazzi in realtà la risposta a tutte queste domande è che forse il sistema scolastico italiano non è al passo col cambiamento non è al passo coi tempi bene possiamo posso parlare allora questo ragazzo ha posto temi importanti intanto la capacità della scuola di seguire la società e purtroppo questo non sempre avviene è vero quello che lui dice ci sono programmi che a volte appaiono obsoleti staccati da quelle che sono i cambiamenti che il mondo ci pone i cambiamenti di natura economica i cambiamenti di natura sociale non lo dite a me che poi voglio dire come io come molti colleghi di diritto siamo orfani della nostra materia nel quarto e quinto anno degli istituti tecnici paradossalmente una sciagurata riforma la riforma Germini ha tolto l'insegnamento del diritto e dell'economia che poi era al quinto anno organizzazione aziendale quindi si sposava anche con altre materie tecniche e che davano una formazione appunto di carattere economico e anche giuridico che era necessaria che è necessaria qualunque ragazzo che sta per affrontare il mondo del lavoro lo hanno tolto questo insegnante quindi ce l'avevamo in maniera istituzionalizzata lo hanno tolto quindi una scuola e c'è l'invito anche di molti professori anche ho sentito molti giornalisti economici per esempio delle 24 ore c'era un giornalista che diceva non mi spiego come non si possa insegnare economia anche nei licei non si possa insegnare appunto un po' di diritto anche in istituti che non sono soltanto gli istituti tecnici perché è lì che si insegna il diritto tra l'altro i primi due anni insomma quindi si è ancora in una formazione di carattere civico più che vero e propriamente giuridica ma allora questo che cosa vuol dire che c'è deve essere una volontà a voler cambiare appunto i programmi e voler inserire nuove competenze c'è questo squilibrio tra quello che si fa nella scuola purtroppo e quello che invece affronterete nel mondo del lavoro il diritto del lavoro voi non lo studiate per esempio ma come può un ragazzo prendersi e firmare un contratto da saggista se non ha idea di che cosa sia un lavoro dipendente in quel momento lo stanno considerando come lavoratore autonomo come pseudo lavoratore autonomo perché ci sono anche queste figure più in ombra tutto questo vi è stato tolto proprio dai programmi e quindi cosa significa questo che lo dovete cercare voi con una cultura che vi dovete fare sempre come cultura personale quindi leggere ascoltare partecipare ai convegni da dove ve li proponiamo perché dobbiamo cercare sempre di acquisire nuove competenze quindi il tema sicuramente dei programmi un po' obsoleti è un tema fondamentale che ha posto quel ragazzo altro tema che ha posto quel ragazzo vivere in delle strutture scolastiche che siano adeguate e a chi non piacerebbe avere un bell'istituto ma questo lo vogliono i dirigenti lo vogliono i professori lo volete voi alunni e non è un problema che possiamo risolvere nel breve termine c'è anche questo nel piano nazionale di resilienza questa novità di introdurre grossi fondi a favore delle scuole proprio delle strutture scolastiche quindi dotarle di nuovi laboratori di nuovi sistemi tecnologici ma soprattutto di aule che siano respirabili pensate che mia sorella insegna insegna in Toscana e mi diceva che ha due classi una di 27 alunni e stiamo parlando di un liceo un liceo di scienze umane e un'altra classe di 34 ragazzi hanno fatto la prova di evacuazione e tutto va bene ma in realtà lei non riesce quando deve magari passare tra i banchi per ritirare qualche compito non riesce a passare 34 alunni come si fa a mettere 34 persone e pensare che si possa avere appunto una lezione che sia una lezione di qualità ascoltata da tutti con tutti che possano partecipare e dire la propria sono tanti i problemi della scuola noi professori siamo con voi laddove queste richieste sono giuste e motivate quando voi fate manifestazioni scioperi siamo noi primi ad appoggiare le vostre le vostre lamentere non vogliamo quando questo sia come dire soltanto un momento di festa e quindi che pregiudica quel raggiungimento dicevamo degli obiettivi un ultimo video e poi voglio far parlare un attimo il professor Coviello riallacciandosi a quello che stavo dicendo prima sulle battaglie che i professori fanno a volte a fianco dei dei ragazzi e che sono stati fatti negli anni 60 proprio per cambiare la scuola l'ultimo video che è molto bello mentre Davide vedi se riesci a metterlo in video l'ultimo contributo è molto bello perché parla invece di quello che è stato il momento della Dad molti ragazzi con la Dad si sono persi li abbiamo abbandonati non li abbiamo proprio più visti e molti ragazzi anche bravi anche ragazzi che raggiungevano l'eccellenza con questo nuovo modo di fare scuola non si sono più ritrovati e quindi hanno perso il loro percorso di vita scolastica allora questo contributo spiega proprio questi problemi ci siamo? allora sei emozionato? si mi sento osservato poi mi sciolgo la prima volta che faccio un'intervista mi fai un sorriso? mi chiamo Mattia Gattoni ho 18 anni frequentavo liceo scientifico in Audi di Dalmine alle elementari alle media avevo tutti 10 i miei compagni mi ammiravano o mi invidiavano io non ho mai capito il motivo dell'invidia dei miei compagni non so perché sinceramente io lo facevo mi piaceva studiare e un'altra cosa che non ho capito è stato un po' l'odio che avevano nei miei confronti sono stato vittima di bullismo adesso sono più grande sono un ragazzo alto 1,87 è difficile immaginare che io fossi bullizzato però prima non ero così ero molto timido ero molto chiuso come ragazzo facevo fatica a rapportarmi con i miei coetanei loro seguivano il calcio io giocavo a pallavolo loro parlavano di ragazze io parlavo di libri allora ho deciso di cambiare ho smesso di studiare a scuola e ho iniziato a studiare la sera ho fatto il minimo indispensabile per non essere bocciato alle superiori alle superiori le cose sono cambiate il mio il mio rapporto con la scuola oramai si stava incrinando sia alle elementari ero lì sempre con la mano alzata a dire chiami me chiami me ero lì in fondo a dormire mi nascondevo dietro lo zanno poggiavo la testa e dormivo fortunatamente ho avuto delle persone perché non sono professore erano prima essere umani che hanno guardato oltre e ha visto quello che ero e quindi era facile che succedesse che magari finito di dormire durante una lezione mi mettevo a parlare con un professore all'intervallo e raccontavo delle mie relazioni di quello che succedeva della mia vita del fatto che non stessi bene e i professori lo facevano perché mi guardavano negli occhi poi è iniziata la DAD è iniziata la DAD e le cose sono cambiate sono cambiate perché i professori non riuscivano più a guardarmi negli occhi vedevano dei pixel tutti ci stavamo ci stavamo isolando nessuno aveva voglia di intervenire alzi la mano per dire cosa sei in camera tua cioè la maggior parte di noi non si cambiava neanche più stavamo in pagina tutto il giorno e io mi sono ritrovato lì e ho detto togliendo togliendo quelle che erano le amicizie il parlare l'uscire cosa resta? niente non mi è rimasto niente a settembre non è cambiato nulla perché abbiamo fatto un mese in presenza e poi eravamo ancora in data e lì ho avuto un prollo ho perso 10 chili ero ancora più solo di prima e avrei voluto avrei voluto che qualcuno mi guardasse negli occhi e mi dicesse puoi essere fragile puoi dirlo che non stai bene non stiamo bene tutti ho sentito i miei professori e gli ho detto che le cose non andavano bene io non avevo più più fiducia nella scuola nelle persone nelle persone in niente ho detto abbandono scuola ho bisogno di ricostruirmi dalla scuola mi mancano mi mancano i compagni mi mancano le relazioni mi mancano i rapporti che avevo con le persone perché il valore della scuola è sempre stato quello umano vedo anche mia mamma che è insegnante all'elementare e lei va letto alle 11 di sera per preparare le cose per i bambini uguali ai nostri professori per cercare di entusiasmare i ragazzi renderli felici di apprendere io sto tornando a stare bene e quindi non escludo la possibilità che quando questa cosa sarà più tranquilla più calma io possa tornare a scuola non escludo la possibilità io direi che è andata benissimo vabbè allora come vedete non è una storia isolata io ho sentito di tanti ragazzi che hanno avuto difficoltà anche ragazzi che andavano bene non si sono ritrovati con questa modalità e soprattutto non si sono ritrovati a dover stare da soli ore e ore davanti a un video quindi meglio spegnerlo o fare altro sarebbe bello ma non abbiamo il tempo capire quanti di voi si sono ritrovati un po' in questa storia quanti ragazzi effettivamente hanno perso quella volontà di seguire le lezioni proprio perché non trovavano un contatto umano e il contatto come diceva l'alunno con il ragazzo del video con i professori non è soltanto il contatto su come devo fare l'esercizio su cosa devo dire per la prossima interrogazione eccetera è il contatto visivo cioè quello di guardarsi negli occhi è la cosa più importante però ragazzi posso dire una cosa a volte siete voi che non ci permettete di entrare nel nostro mondo perché lo sforzo che noi docenti facciamo è quello di capire le vostre ragioni di capire un po' le vostre sofferenze non sempre vi troviamo disponibili devo essere ne parlo per esperienza personale non sempre i ragazzi vogliono aprirsi quindi anche voi dovete fare questo sforzo adesso che siamo in presenza laddove ci sono dei problemi appunto subito parlare con i vostri compagni ma anche con i vostri docenti che devono sempre essere il vostro riferimento in ogni momento comunque molto bello questo video allora vediamo un attimo di parlare un attimo Michele delle battaglie dei giovani nel mondo della scuola che erano molto più insensite è difficile entrare è difficile entrare dopo un video del genere dove effettivamente bello questo video mi ritrovo nelle tue parole nella difficoltà dei ragazzi di ritornare alla normalità la cosiddetta normalità insomma io non voglio tenervi più di tanto diciamo perché voglio dare spazio ai ragazzi insomma che si devono presentare e semplicemente volevo ricordare loro che tutto parte dai decreti delegati del 74 il famoso processo di democratizzazione della scuola cioè venivamo quegli anni erano anni particolari perché si veniva appunto dalla contestazione operaia e dalla contestazione studentesca del 68 laddove i ragazzi insomma ho visto dei video mi sono un po' documentato e ho notato che in sostanza i problemi che questi ragazzi portavano allora erano gli stessi di oggi perché anzitutto dicevano che la scuola di quei tempi era una scuola classista e selettiva cioè una scuola che si rivolgeva a pochi invece deve aprirsi a tutti si lamentavano della carenza di autonomia democratica cioè i ragazzi non potevano partecipare non potevano fare assemblea era loro vietato e volevano fare assemblea perché volevano trovarsi insieme e parlare dei problemi della scuola parlare di problemi anche della società di quel tempo insomma di quello che era l'andamento anche economico l'economia come dicevi tu era importante perché saranno gli anni 70 anni di difficoltà economica di crisi e per cui questi ragazzi volevano anche come dire dire la loro in merito al lavoro in merito al fatto che la scuola doveva inglobare tutti non doveva essere appunto selettiva e lamentavano per esempio un altro problema quello del centralismo cioè le decisioni le prendevano dall'alto e quindi i ragazzi non potevano dire la loro in merito che sono i problemi legati ai problemi contingenti di ogni scuola quindi venivamo da anni particolari dove c'era l'esperienza di Don Lorenzo Milani che insomma cercò di come dire di aprirsi a un mondo diverso di quello aspetto a quella che era la scuola di un tempo dove si considerava la scuola c'erano le scuole di serie A le scuole di serie B le scuole che dovevano preparare i quadri dirigenziali le scuole invece che dovevano preparare gli operai diciamo quindi la classe media e quindi quella differenza poi creava quelle disparità anche nella società quindi la scuola per i ragazzi di quel tempo doveva conglobare tutti perché tutti avevano diritto di poter fare di scegliere la propria strada liberamente quindi si arrivò a questi decreti delegati che sono in sostanza nel 74 e la sono i decreti che portarono poi alla nascita dei cosiddetti organi collegiali della scuola quello che insomma stiamo facendo noi oggi il fatto oggi di ritrovarci a parlare in questa modalità che è una modalità nuova ma comunque sia a parlarci negli anni 70 nel prima del 74 non si poteva fare era assolutamente vietato i ragazzi che magari ottenevano qualcosa era perché c'era la benevolenza dei docenti oppure la benevolenza dei dirigenti che magari si rendevano conto del fatto che i ragazzi avevano bisogno di trovarsi bisogno di parlare di partecipare di dire la loro e non di subire semplicemente le azioni dall'alto questa era l'esigenza magari negli ultimi tempi noi abbiamo riscontrato il fatto che i ragazzi sempre meno apprezzano questo strumento democratico di condividere insieme un percorso o un'idea perché le ritengono un modo per non fare lezione quindi una giornata di riposo in realtà diciamo quello che veniva fuori dalla contestazione del 68 era proprio questo i ragazzi di allora volevano partecipare si combattevano per partecipare occupavano le scuole ci dormivano la notte proprio per dire per manifestare il proprio dissenso nei confronti di una società che invece li riteneva come dire incapaci di dire la loro di parlare e di proporsi e anche soprattutto di condividere un'idea perché in fondo questi momenti che cosa volevano dire semplicemente condividere un'idea condividere un pensiero e quindi anche crescere come persone perché i ragazzi di allora magari visti nei confronti di oggi erano molto più maturi all'allore perché si rendevano conto che dovevano subito affrontare una volta usciti da scuola una vita che non era appunto una vita facile mentre oggi abbiamo tutto un sistema con i genitori i genitori la famiglia insomma che proteggono ancora e che quindi danno come dire l'opportunità di aspettare di 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 da fare in maniera diciamo non subito ma aspettare un po' perché invece a quell'epoca bisognava darsi subito da fare quindi i ragazzi almeno quello che ho potuto verificare da leggendo anche delle interviste che ho trovato insomma che si rendevano conto che dovevano subito impegnarsi quindi fare le assemblee per loro era sentirsi subito grandi insomma sentirsi già capaci di decidere il proprio destino per quanto riguarda l'aspetto burocratico in sostanza il DPR 416 quello che praticamente istituisce del 74 che istituisce gli organi collegiali che servono a realizzare la cosiddetta partecipazione delle famiglie e dei ragazzi alla vita e alla gestione della scuola perché la scuola deve diciamo da quel momento in poi viene intesa come scuola comunità perché deve in questo senso condividere la gestione perché la scuola essendo una comunità deve vedere la presenza di più figure che non siano solo quelle istituzionali come appunto i dirigenti i docenti o il ministero insomma ma vede le famiglie e i ragazzi partecipare e condividere anche delle scelte perché i ragazzi che sono diciamo sono stati eletti nel consiglio d'istituto sanno che il consiglio d'istituto che è appunto un organo che nasce proprio nel DPR 416 è un organo deliberante quindi decide delle sorti anche di quello che la scuola può fare a livello anche economico quindi si rendono partecipi di questa modalità e questa cosa nasce proprio nel 74 nasce proprio con la decisione del governo del governo di allora di dare la possibilità ai ragazzi e alle famiglie di condividere queste decisioni che invece prima erano semplicemente calavano direttamente dall'alto quindi quello che possiamo dire è che viene fuori nasce una gestione partecipata della scuola partecipata proprio perché i ragazzi in questo modo si rendono anche conto che da una votazione piuttosto che una decisione dipende il destino di una scuola stessa e quindi in questo senso si rendono attori di un nuovo processo questo è quello che diciamo posso dire poi se volete io mi fermo qui perché non voglio più annoiarvi più di tanto però vi posso semplicemente concludo dicendo che non non disdegnate questi momenti perché sono momenti in cui vi rendete conto che che cosa vuol dire essere cittadino attivo voi siete portatori di diritti e siete portatori anche di doveri e questo di partecipare per voi è un diritto ma è anche un dovere lo dovete sentire come un dovere soprattutto perché partecipare alla vita politica a vita attiva scusatemi significa anche rendersi conto di quelli che sono diciamo di quella che è la direzione che la società deve prendere quindi ecco perché io vi invito a partecipare sempre più numerosi e a non disdegnare questi momenti che non sono momenti di semplicemente riposo dalle attività scolastiche ma sono momenti in cui la scuola si fa comunità e decide insieme il suo futuro ho chiuso ho concluso bene e infatti è giusto quello che tu dicevi vivere in maniera attiva la democrazia significa partecipare con con razionalità a quello che si fa e non è un momento di svago quello dell'assemblea degli studenti o il momento di perdita delle elezioni domani andrete a votare dei rappresentanti e mi raccomando fate la scelta secondo non amicizia o simpatia secondo proprio la capacità che voi credete che questo ragazzo abbia di rappresentare i vostri interessi all'interno di quell'organo che sia il consiglio di classe domani ci saranno anche i rappresentanti di classe che devono essere scelti o consiglio di istituto quindi come organismo di gestione come diceva il professore con più alte competenze e quindi anche più responsabilità bisogna quindi scegliere ragazzi che siano veramente responsabili allora a questo punto farei parlare io inizierei da Francesco Piscopo che poverino è stato quello che ha avuto più difficoltà ad entrare quindi gli darei per primo la parola ti vuoi presentare ai tuoi compagni non solo quelli di istituto del tuo plesso ma anche appunto agli altri plessi perché tutti ti possono votare andiamo avanti allora ciao a tutti io sono Piscopo Francesco e mi sono candidato per l'assemblea di istituto per essere rappresentante dell'istituto della mia scuola faccio la guardarci dell'istituto Traetta e io volevo candidare in questo da trovare un punto di incontro per gli alunni un punto di incontro che ci possa permettere di lavorare meglio e di trovare quella serenità che anche due anni fa abbiamo perso questi due anni sono stati molto difficili infatti in questi due anni ci siamo ritrovati a non poter più guardare negli occhi l'altro perché c'era un computer un telefono che ci divideva siamo stati privati di uno dei diritti più importanti per noi ossia la libertà una libertà che anche una libertà che ci ha potuto che ci ha potuto permettere di avere altre comunicazioni altri mesi di comunicazioni però c'è sempre c'è sempre una differenza fra il comunicare faccia a faccia e il front telefono volevo dire a tutti quanti che se volete votarmi che sono qui uno per trovare un potuto incontro fra professori e alunni e anche per dare un senso a questa parola cioè la parola libertà perché si parla molto di libertà eppure ancora oggi puntiamo il dito invece che aiutare l'altro puntiamo il dito su una persona a un'altra persona del stesso sesso puntiamo il dito su una persona al colore della pella diversa da noi questo penso che non dovrebbe esserci e dovrebbe dovrebbe proprio la scuola aiutarci a imparare e a capire che non ci sono differenze ma siamo tutti uguali spero che tutti quanti abbiano capito che non so qui a fare le rue oppure a dire frasi che abbiamo già sentito dire ma solamente per farvi capire che ne è proprio qualcosa che altri non hanno oppure non possono più avere questa cosa è la scuola proprio perché la scuola ci dà la possibilità di studiare quindi di avere più conoscenze e non essere ignoranti davanti al mondo restare fermi davanti al mondo spero che possa essere di aiuto per tutti voi e per qualsiasi cosa io ci sarò in casa mi poterete proprio finito bene bravo mi è piaciuto quello che hai detto quindi sicuramente sarai entrato nel cuore di molti tuoi compagni di scuola e anche di quelli che non ti conoscevano che così hanno avuto modo di conoscerti io ci tenevo molto a fare questa assemblea prima delle votazioni perché i ragazzi vi devono conoscere devono capire il perché votarvi e avere in voi anche un riferimento per qualunque cosa possa accadere appunto quindi se ho un problema come è accaduto in questi giorni che alcuni ragazzi che hanno avuto dei problemi hanno sentito di parlarne subito con il rappresentante uscente il rappresentante di istituto che lo hanno visto come un riferimento ed è così che ti devono vedere sempre in questo anno scolastico d'accordo? allora in bocca a te io passerei a questo punto a Castellano o però finisco a parlare io veloce tanto io ho poco da dire no io volevo che tu fai le conclusioni invece ah faccio le conclusioni ok va bene non è un problema preparati a chiudere il disco ok ok Davide è candidato oppure si deve presentare siamo tutti candidati dai cominciamo con i primi poi volevo ricordare agli altri che dobbiamo anche votare al prossimo comitato studentesco il presidente del comitato che faremo appunto a breve la carica di Cisternino è scaduta e quindi va va rinnovata rinnovata allora abbiamo detto Castellano vuoi iniziare tu? per me è indifferente va bene allora buongiorno a tutti sono Castellano Gaetano sono un ragazzo che sta frequentando il quinto anno della meccatronica e se sono qui è per è per cercare di di dare dei migliori di fare dei miglioramenti nel nostro istituto soprattutto a livello laboratoriale o in qualsiasi altro ambito mi sono voluto candidare anche perché sono sempre stato personalmente il braccio destro di qualcuno e non mi sono mai fatto valere quindi diciamo vorrei avere la possibilità da voi di poter almeno per una volta avere il essere il leader di tutti voi alla fine sono sono molto d'accordo a essere a essere cioè so che noi siamo una scuola che è molto unita e se vogliamo riusciamo ad ottenere dei risultati l'abbiamo visto con gli ultimi shopperi che abbiamo fatto per i turni quindi io sono molto sono disposto ad affrontare qualsiasi problema che ci rappresenta o che ci rappresenterà in futuro e sarei lieto di ricevere di ricevere il vostro voto non non vi voglio alla fine promettere non vi voglio fare promesse inutili perché non voglio bastare il mio voto su su delle cose che alla fine non potrei realizzare quindi non vi voglio né illudere o altro se sono qui sono per dirvi le cose come stanno proporvi le cose che si possono fare e se serve andare contro contro chi ci impedisce a fare queste cose ho terminato bene allora Castellano tu da protagonista hai detto sempre il braccio destro di qualcuno oggi vuoi sentirti protagonista io però voglio dire una cosa ai ragazzi al di là del fatto che voi riusciate o meno a farvi eleggere c'è un altro momento importante che è anche quello del comitato studentesco perché quando voi vi riunite potete prendere delle decisioni e poi trasferire queste decisioni o queste proposte alla dirigente per cui ecco quel dialogo di cui parlava Francesco Piscopo prima quel dialogo con la mediazione tra alunni e professori la potete fare proprio voi i rappresentanti del comitato studentesco quindi non lo abbandoniamo come organismo anzi è importante andiamo con Masellis prof mi sente chiaramente sì 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 allora sono Fabio Masellis e frequento la stessa classe di Castellano la quinta M dell'istituto Volta senza perderci in tante parole i miei obiettivi sono chiari allora prima di tutto volevo scusi volevo raggiungere alcuni obiettivi in particolare quelli del laboratorio magari poter riboreare il più possibile il laboratorio anche qui faccio promesse sperando di poterle mantenere cercherò di combattere il più possibile perché spesso non dipende nemmeno da noi come scuola lo sai benissimo è per questo io cerco di impegnare cercherò di impegnare di combattere il più possibile anche nelle iniziative per esempio per i viaggi all'estero personalmente ho anche amici io che sono partiti poche settimane fa per iniziative all'estero di la durata di una settimana non sono al corrente non so se si facciano se ci siano queste iniziative molto belle anche da noi ci saranno nella nostra scuola cercherò ovviamente mi è sempre piaciuto anche fare da mediatore tra tra gli amici quando si fanno liti per esempio quindi credo di avere anche delle abilità da mediatore tra professori e alunni mi piace sempre ascoltare le problematiche e discutere quindi credo anche di poter essere utile per esempio nei comitati magari saper gestire saper riunire tutte le persone in un'unica con un'unica decisione e ascoltare anche tutte le problematiche dei ragazzi magari riuscendo come ha detto l'altro candidato Francesco Piscopo di cui il discorso mi è piaciuto molto di riuscire anche a riunire a ricucire quella ferita che ha separato professori e ragazzi durante questo periodo di dad mi piacerebbe molto che molto entrare in questa vita di rappresentanza per poter dare anche il mio contributo a questa scuola che ha veramente bisogno di persone umili ma anche capaci di saper fare tante cose e saper mettersi in gioco ho terminato bravo mi piace vedere quando io li lascio al primo e secondo anno che sono piccoli e maturi e poi vedervi cresciuti nel corso degli anni e ritrovarvi quindi io Maselli sono avuto come alunno e lo trovo effettivamente più più capace di rappresentare quella capacità di mediazione di cui lui parlava effettivamente fa parte della sua personalità allora una cosa velocissima visto che c'erano dei ragazzi che stavano alzando la mano se devono scrivere qualcosa lo possono scrivere in chat e vi leggiamo esatto non possiamo parlare a Vitto vai mi sentite professore sì 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 ti sentiamo io mi chiamo Giuliano Avitto faccio frequento la classe quinta Etec dell'istituto quello che in realtà hanno detto anche gli altri candidati sono gli obiettivi principali un po' di tutti quelli sono quelli di cambiare i laboratori e creare distacco cioè non distacco conversazione tra gli alunni e i professori io in più sinceramente quello che mi sono anche ritrovato in quello che è stato detto nel secondo video dove il ragazzo parlava di cambiare quello che era la classe la scuola italiana anche di proporre dei pon sinceramente dove ci sono ci sono si faranno dei pon all'estero io non ne posso parlare bene perché non faccio parlare no no lo 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 sinceramente se volevo proporre se verrò eletto e così via al consiglio se si potranno fare dei pon che riguarderanno il diritto l'economia o quelli che sono la politica questa è una bella cosa noi prima facevamo un progetto con la scuola di politica con la fondazione vero si con la fondazione città dell'uomo per la grada le abbiamo interrotti ma c'è l'idea di riprendere perché quello era un momento di formazione importante di cui noi sentiamo la mancanza perché proprio quelle cose che tu dicevi studiare l'economia studiare oppure quel ragazzo dice stiamo cambiando dall'euro passiamo al bitcoin e molti non sanno di che cosa si tratta effettivamente con questo tipo di formazione extracurriculare noi riuscivamo un po' come dire ad allargare il nostro orizzonte di interessi che potevamo sottoporre anche ai ragazzi io speriamo che riparta quest'anno e nel caso comunque voglio vedere gli iscritti insomma a partecipare non per il credito ma proprio per la formazione personale quindi è detto una cosa bella anche perché poi sinceramente studiare un diritto all'economia nel primo e secondo anno dove si è ancora ragazzi che non capiscono molto non ha senso infatti avrebbe avuto più senso ma poi vabbè te lo spiegano anche perché io che ho fatto l'ultima scuola di politica l'ho fatta io ti ricordi Anna Maria esatto diciamo si parlava ovviamente venivano degli ospiti e lì ovviamente si puntava su un aspetto che so la presentazione anche di personaggi storici come Aldo Moro che loro non conoscono o altri personaggi anche di tontini illustri e serviva a loro per dare appunto quell'evoluzione anche della politica del sindacato si parlava di di Vittorio di Salvemini insomma personaggi che loro non conoscono ma che hanno lasciato una traccia importante nella storia della politica del sindacato e di tutto quello che questi aspetti che possono servire a loro per formarsi come persone insomma no era bello un bel progetto però ripeto dovremmo vedere di riattivarlo in qualche modo questo non è facile riprendere il canale esatto perché devono riprendere insomma non sono ragazzi che erano in classe sono ragazzi che devi tirare quindi non è facile effettivamente ad aggiungere qualcosa ancora piccola cosa futile ma in realtà che convolge un po' tutti la scuola sempre le macchinette e poi non si chiama i distributori per ragioni di che non lo sai benissimo non possiamo per il momento riattivare io vorrei dirlo vorrei dire a tutta la scuola che non c'entra covid dove stiamo aspettando è una cosa che appena si avrà il primo il primo comitato è una cosa che potete proporre come tema è l'argomento principale così ci siamo davanti sottoporre alla vostra dirigente avrete delle risposte più diciamo complete rispetto a quelle che posso darvi io in questo momento va bene però è un problema anche quello tu dici importante perché un ragazzo deve stare 5-6 ore ha bisogno di rifornirsi di acqua di cibo e questo vale anche per noi docenti allora se tu hai terminato l'altro ragazzo quindi abbiamo detto adesso possiamo passare a Davide e poi conclude il cisternino Capperini prof scusami Capperini Davide ti vuoi ricandidare? Va bene come molti sapranno sono stato vostro rappresentante quest'ultimo anno assieme anche a Capperini e ho deciso di ricandidarmi più che altro perché diciamo volevo finire quello che avevo iniziato l'anno scorso diciamo abbiamo fatto molto per per la scuola quest'anno abbiamo fatto organizzato shop abbiamo ascoltato tutti le varie problematiche abbiamo sempre riferito abbiamo fatto il nostro massimo per ciò che ciò che potevamo fare e anche quest'anno cercheremo di dare il nostro massimo sempre per le vostre problematiche i vostri dubbi le vostre tutto quello che volete siamo sempre a vostra disposizione e oramai tutti hanno detto le varie problematiche mi sa che hanno dimenticato di dire della palestra della olamagna che purtroppo come ho già detto anche nel nel comitato non dipendono da noi ma dipendono dalla regione e l'unica cosa che possiamo fare è sollecitare questa cosa diciamo alla dirigente che può sollecitare la regione e non c'è molto da dire speriamo che alla fine chi venga eletto io non dico che deve essere eletto per forza però chi venga eletto sappia gestire tutte le situazioni perché veramente in quest'anno ci siamo trovati delle situazioni molto complicate e molto dedicate e che spero abbia delle competenze informatiche e tecniche per potervi aiutare con chi la faccia l'assemblea sempre a te devo venire Davide comunque anche se non sei eletto sarei messo nel gruppo di supporto la funzione strumentale di forza no vabbè io devo dire una cosa veramente non è un come si dice un appoggio a delle candidature però è stato utile l'anno scorso avere dei ragazzi che avevano delle buone competenze informatiche perché appunto dovevamo allora quest'anno sappiamo cosa fare l'anno scorso partivamo da nulla cioè come si fa un'assemblea online da punista tecnico con quale sito con quali strumenti ma anche come tenerla perché in presenza è facile intrattenervi noi avevamo il momento di dialogo i video poi c'era il film e la risolveva anche facilmente l'assemblea qui dobbiamo intrattenervi come se fosse una trasmissione televisiva cercare di captare la vostra attenzione e mantenerla per un certo periodo quindi occorrono persone che come dice Davide in qualunque momento sappiano cosa fare perché se non parte il video devono sapere come intervenire se il compagno chiede aiuto devono sapere cosa fare quindi mi auguro che i ragazzi che siano eletti i prossimi che si scandideranno debbano come dire in qualche modo avere questa predisposizione al problem solving ma anche la capacità di intervenire in termini i tecnici informatici perché devono dare un aiuto al professore Nicola Modugno devono dare un aiuto a me e quindi dobbiamo collaborare insieme è stato anche positivo l'anno scorso candidare ragazzi del quarto anno perché poi questi ragazzi che stanno soltanto un anno poi li perdiamo magari sono preziosi e dobbiamo riformare altri quindi anche questa l'anno scorso è stata una scelta come dire positiva quindi vedremo quest'anno che cosa sceglierete voi e il voto è sovrano andiamo ad Antonio allora buongiorno a tutti sono Antonio Chiapperini frequento la Quinta AIA Informatica e quest'anno mi sto candidando nuovo come rappresentante appunto come ha detto Davide per continuare il lavoro che abbiamo iniziato l'anno scorso che è stato un lavoro bellissimo che abbiamo svolto con la professoressa Facchini che è stato molto utile dal punto di vista didattico a parte per aiutare un po' tutta la scuola abbiamo iniziato nella costruzione dell'assemblea d'istituto non sapendo niente non sapevamo cosa fare come farla grazie alla professoressa devo dire una cosa l'ho detto anche a fine scusami non è che voglio interrompermi a fine anno io faccio una relazione al collegio e proprio in questa relazione e io ho detto ho scritto anche che l'aiuto è stato fondamentale ma soprattutto siete dati voi a propormi di farla in questa maniera perché io mi vedevo persa rispetto alle modalità e invece voi mi avete proposto di farla su YouTube che era possibile abbiamo parlato con il professor Loconso e quindi avete dato un impulso importante quindi devo io ringraziare voi dai vai avanti appunto come stavo dicendo ringrazio anche il professor Loconso che quest'anno non è più nella nostra scuola purtroppo però ci ha aiutato anche lui tanto e inoltre volevo dire che quest'anno abbiamo una bellissima lista io conosco tutti i ragazzi che si sono candidati sono tutti dei bravissimi ragazzi e tutti in qualche modo faranno la differenza io quando ho fatto il giro delle classi per cercare chi far candidare sono stato subito contento di avere questi nomi ragazzi veramente responsabili e che sicuramente in qualche modo chi uscirà sarà capace di gestire le cose io quello che volevo proporre appunto alla scuola come obiettivi è quello di ritornare a fare le nostre classiche assemblee d'istituto so che sarà una cosa difficile però dopo dicembre speriamo che tutto ritorni di nuovo alla normalità che possiamo di nuovo svolgere le assemblee come abbiamo sempre fatto cioè magari al cinema perché come sapete la nostra aula magna è inagibile adesso e fino a quando non si avranno fondi non si potrà riparare e per quelli che chiedono delle altre cose magari dalla palestra dei laboratori sono sempre argomenti da parlarne fuori perché adesso non vi saprei dare una risposta su nulla volevo anche ringraziarvi tutti perché visto che oggi siete stati quasi tutti attivi abbiamo perso veramente poche persone durante l'assemblea l'anno scorso ne perdavamo leggermente di più quest'anno è andata bene per essere la prima in una modalità nuova e niente vi auguro a tutti un buon anno scolastico e come ultima cosa ma non per importanza quest'anno come voi sapete visto che sono passato dalle classi sono successi atti di bullismo a scuola cosa che io non ho mai visto in cinque anni frequento da cinque anni in questa scuola non è mai successo nulla sta succedendo soprattutto tra ragazzi più piccoli del bienio la preside e vicepreside mi hanno informato di ciò che sta succedendo fuori dalle fermate sopra i pullman e tutto io volevo solamente informare i ragazzi che stanno facendo queste cose che non so se adesso sono presenti che i nomi verranno identificati al più presto e verranno denunciato alle forze dell'ordine quindi prima di fare le cose ragionate su non alzate le mani ai ragazzi perché è reato e ne rispondono i vostri genitori se siete minorenni mi raccomando ragionate col cervello e non fate stupidaggi finisco qui prof e auguro a tutti un buon anno scolastico grazie hai fatto benissimo ricordare questi episodi che come tu hai detto prevalentemente avvengono al di fuori della scuola ma avvengono tra ragazzi che frequentano il nostro istituto e quindi in quanto tale siamo stati in qualche modo allertati e giustamente la dirigente si è subito rivolta anche a te per chiedere appunto la collaborazione degli stessi ragazzi questo avviene soprattutto con i pendolari avviene soprattutto nell'attesa dei treni o sui treni mettendo anche in discussione quello che è il patrimonio per esempio no e tutto quello che è l'apparecchiatura anche di alcune strumentazioni di quanto riguarda l'altro giorno ho saputo di un episodio piuttosto grave proprio di quello che riguarda il bene pubblico che è il pulmano il treno eccetera quindi andare a rompere lì o scardinare qualcosa significa disturbare e creare danni ad un'attività che costituisce un servizio pubblico e quindi quelli sono beni pubblici che non vanno toccati questo lo fanno soprattutto ai ragazzi più piccoli e quindi è anche uno degli effetti di questo sentirsi spiazzati dal divano all'esterno e quindi si reagisce anche in questa maniera convulsa però sappiate che noi stiamo monitorando il fenomeno come diceva Chiaperini la nostra scuola pur essendo un istituto tecnico e io ci sto da tantissimi anni non me li ricordo più manco quanti anni sono sono tanti non ho mai visto veri episodi di bullismo se non piccoli screzzi tra compagni eccetera quindi è una scuola che pur essendo una scuola tecnica che chiama pendolari da tutta la provincia non ha mai avuto problemi di bullismo serio e questo grazie al fatto che c'è un gruppo docente e anche i dirigenti che si sono succeduti nel tempo che sono sempre stati attenti alle problematiche dei ragazzi a guardarvi attenti nel guardarvi negli occhi nel capire se c'erano dei problemi e subito intervenire siamo severi sì è vero siamo severi a scuola perché dobbiamo poi formare i ragazzi che devono uscire dalla scuola e quindi mettersi in un nuovo contesto rispettando sempre delle regole quindi quando noi iniziamo già dal primo anno ad essere rigidi sull'uso della mascherina sul fare questo sul fare quest'altro lo facciamo proprio in previsione di quello che farete poi quando uscite dalla scuola e lì un po' come dire mancando il controllo ci si lascia andare però ragazzi sono episodi che vi possono veramente mettere nei guai lo dico per chi lo sta facendo sappiamo chi sono i ragazzi sappiamo cosa hanno fatto quindi state attenti perché c'è un monitoraggio continuo mi auguro che sono stati diciamo episodi sporadici mi auguro che non si ripeteranno più è ovvio che se vogliamo tornare a fare le attività tipo andare a teatro andare a fare le attività all'esterno i viaggi ci saranno probabilmente ci saranno i PON all'estero e quindi vi farete ma probabilmente ne parlavo con la preside proprio ieri dice vediamo di organizzare qualcosetta vediamo vediamo cosa ci dicono i dati sul covid come ci possiamo muovere ma dove mi porto io dei ragazzi che già alla stazione di Bitonto si lasciano andare in certi atteggiamenti non vi porto da nessuna parte quindi non vi posso mettere nemmeno ad organizzare visto che siamo sempre noi di questa funzione strumentale a doverlo fare ma non esiste proprio quindi o vi comportate bene oppure voi resterete sempre a scuola e magari i ragazzi e le classi migliori saranno probabilmente anche premiati con queste attività fuori perché voi andate fuori e siete il nostro migliore biglietto da rischia quindi non potete consentirci di fare brutte figure un'altra cosa che voglio dire se lo interrompo però è giusto così ed è giusto che sia così perché alla fine perché io magari sono un bravo ragazzo non faccio il mio dovere perché dovrei essere penalizzato in questo esatto esatto quindi io proporrei eventualmente di sceglierci alunni fare gruppi misti da dove sarà necessaria una rappresentanza ad un teatro non sarà più tutta una classe andremo probabilmente se continuano questi episodi dove si individuano i casi più difficili andremo a scegliere invece ragazzi più tranquilli più rispettosi non mi sembra una discriminazione mi sembra un atto come dice il vostro compagno di equità che si dovrebbe appunto realizzare però vedremo di realizzare qualcosa anche a livello di piccoli viaggi piccole uscite ok allora un'ultima cosa forse dovresti far vedere il video di quella ragazza che si vuole candidare allora c'è il Consiglio regionale abbiamo detto dei giovani non è altro sennò un parlamentino dei giovani rappresentanti di tutte le scuole della Puglia che si viene a istituire ogni anno e costituisce una forma di come dire di assemblea giovanile per discutere di problemi prevalentemente di politica se vuole dire due parole su questo cisterrino che ci ha fatto parte per due anni lo ascolterei però devo precisare che lui appunto non si può più candidare perché forse dopo due anni non è più possibile ricandidarsi quindi non abbiamo un candidato dell'ITIS ma avremo una candidata di un'altra scuola che chiede però il nostro aiuto sentiamoci cisterrino di cosa si tratta spiegano ai compagni vabbè prof noi abbiamo fatto solo i primi 4-5 incontri in presenza al Consiglio regionale della Puglia perché poi è successo tutto la pandemia appunto della DAD in DAD siamo ritornati gli ultimi 4 mesi cioè in tutto il mezzo poi non abbiamo fatto più nulla perché non abbiamo avuto un momento di lockdown totale per cui non abbiamo avuto nemmeno informazioni da Consiglio noi le chiedevamo ai membri del Consiglio e loro non ci rispondevano quindi e non rispondevano perché spesso non andavano nemmeno in ufficio e quindi non attivavano quei canali di comunicazione ufficiale insomma molti uffici della regione proprio hanno cessato di lavorare perché hanno dovuto riorganizzare il servizio in un certo modo poi però come esperienza com'è stata? Per quello che abbiamo fatto è stata molto interessante noi avevamo anche un incontro con uno dei giudici costituzionali un certo un certo giorno poi da lì ripeto è scoppiata la pandemia e non abbiamo più potuto fare questo incontro però per quello che ho fatto io è stato interessante è stato interessante c'erano i consiglieri regionali c'era l'onorevole Gero Grassi venivano anche degli esperti a parlare su temi diciamo di stretta attualità politica va bene allora vediamo chi sarà la candidata quindi anche se non è una ragazza della nostra scuola noi possiamo votarla come è successo a Cistervino l'anno scorso che poteva essere candidato nell'ITIS ma ricevere voti anche da altri istituti allora la ragazza si chiama Eliana di Bitonto frequenta lecceo scientifico di sempre di Bitonto la classe quarta B allora mi ha mandato questo powerpoint a presentarvi è da leggere vai si vede? si si ok allora la ragazza qui spiega cos'è il consiglio dei giovani in breve è un'elezione appunto di 46 ragazzi di tutta la Puglia per un progetto biennale che permette di frequentare gli uffici della sede della regione Puglia come ha spiegato anche Cistervino da osservatori si diventa protagonisti di questa esperienza e coloro che saranno eretti avranno l'opportunità di presentare un DDL che è un disegno di legge che verrà preso in considerazione dal consiglio regionale i temi che la ragazza più a cuore sono due il fenomeno della dispersione scolastica con l'obiettivo di contribuire all'elaborazione di una serie politica di orientamento formativo e inoltre il problema di pochi mezzi di trasporto e conseguente sovraffollamento qui lei chiede appunto come noi possiamo contribuire durante questo suo percorso lei creerà dei forum in cui noi potremo raccontare la criticità delle nostre scuole i problemi e appunto poi lei potrà lavorare a questo e mettere l'attenzione del consiglio le istanze faranno parte dei tavoli di lavoro per edigere con gli altri studenti eletti il nostro DDL cioè che tutto quello di cui faremo richiesta poi appunto andrà nel DDL e poi chiede di essere votata qui al consiglio regionale dei giovani voi avrete una lista domani lo troverete già stampato perché mi pare che è l'unica quindi è una ragazza appunto che si propone quello che dice mi pare abbastanza interessante l'unica cosa che devo dire ragazzi io più volte ho ospitato altri ragazzi di altri istituti ricordo un altro del liceo classico un altro del liceo scientifico e noi spesso abbiamo dato il voto all'esterno noi li abbiamo persi di vista quindi mi piace che tutti si propongano per avere un contatto diretto con voi che sarete i loro elettori però poi come qualunque rapporto politico bisogna mantenerlo costante allora l'invito è una volta che voi avete il rappresentato dell'istituto di contattare esatto contattare chiedere conto chiedere conto perché questo è proprio il dialogo tra rappresentanti e rappresentati cioè io ti do il voto ma non è una delega in bianco dopodiché ti voglio voglio essere ascoltato e voglio ascoltare quello che stai facendo quindi chiunque venga eletto dovrà se questa ragazza sapremo che ce la fa dovrà mettersi in contatto con Eliana e magari la possiamo ospitare per dire che cosa sta facendo e vedere che cosa appunto lei avrà da proporci va bene come iniziative a favore dei giovani perché questo organismo non fa altro che oltre a fare una scuola di politica di formazione eccetera che rappresentare il canale di comunicazione tra il mondo giovanile e le istituzioni regionali proprio per tenere aperto questo percorso diciamo di formazione ma anche di comunicazione tra il mondo giovanile ma anche attraverso questo organismo il mondo delle istituzioni veniva per esempio il presidente Luizzo negli anni scorsi faceva delle riunioni con i ragazzi parlava dialogava con loro è il problema appunto dei mezzi di trasporto è un problema che solo la regione può risolvere quindi è importante in questo caso sapere infatti anche Cisternino si proponeva il problema di Terlizzi della società quando si ripropose di tenere sempre alto gli interessi dei suoi come dire concittadini voi avete interesse a mantenere il contatto con questa ragazza perché la protesta che voi fate degli scioperi perché mancano i mezzi di trasporto avete se questa viene eletta una persona che può portare queste vostre istanze negli organi dove si decide negli organi proprio della politica e della decisione allora se non ci sono cose da dire da aggiungere io direi che possiamo anche chiuderla quanti siamo ancora in ascolto 237 persone ma insomma c'è da dire che però con youtube è vero che eravamo pochi all'inizio però io poi ho visto che le assemblee hanno ricevuto nel corso del tempo si potrebbero vedere dopo anche adesso si potrà fare però finisce l'assemblea le nuove visualizzazioni quindi in questo momento è importante però possiamo anche rivederle risentirle con calma avanti quindi quando i ragazzi vogliono sentire io devo votare vediamo che cosa ha detto il candidato può andare a vedere il professor Nicola Modugno provvederà a fare questo mi darà un link forse dove lo mettiamo questo link a questo punto sul canale youtube della scuola come succedeva l'anno scorso in uguale maniera quindi uno trova il voto dei gemi l'assemblea e va questo anno ok d'accordo va bene quindi stiamoci attenti quando andiamo a fare l'assemblea non direi che se ci ascolta tutto il mondo e si rimane in rete non ci si può cancellare mi sono trattenuto nel discorso stiamoci attenti a quello che diciamo va bene ragazzi io vi saluto devo essere sincera mi è piaciuta questa assemblea perché ho sentito parlare voi finalmente e mi è piaciuto anche il il tono con cui avete presentato le vostre candidature molto pacato senza altro responsabile voglio soltanto invitarvi domani a usare lo stesso tipo di attenzione nella procedura di votazione perché deve tutto svolgersi correttamente c'è un comitato che si controllerà le vostre schede assemblee si devono svolgere correttamente voglio aggiungere un'altra cosa quando siamo così in modalità online le assemblee di classe non ne facciamo contestualmente quindi i ragazzi le possono chiedere ai propri docenti nell'arco del mese per parlare proprio dei problemi della classe useremo questo doppio canale allora dimmi chi mi parla Francesco ah Francesco dimmi volevo dirle ho ascoltato ciò che hanno detto anche gli altri sono d'accordo d'accordissimo sugli argomenti che hanno hanno detto spero che non ci saranno differenze fra ragazzi del nostro istituto e ragazzi dell'industriale spero che ci sarà un'uguaglianza per tutti ma perché discriminati non è mai stato così ti posso dire che questa è stata una sempre una sensazione che i ragazzi del traetta hanno avuto ma nel passato e lo puoi chiedere alla professoressa De Pinto che ha collaborato con me dall'inizio nel passato abbiamo avuto forme di collaborazione con delle ragazze che erano rappresentanti che si sono fatte avanti per dei progetti delle attività abbiamo realizzato progetti solo per i ragazzi del traetta quindi questa discriminazione noi non l'abbiamo mai operata sta a voi sta a voi Francesco sta a voi sparsi avanti ma in maniera faccata non polemica e costruttiva perché da parte dei nostri ragazzi non ci sono ormai sono 6-7 anni che siamo insieme non c'è più questo senso di rivalità tra i due istituti assolutamente siamo un unico corpo e un'unica anima quindi Francesco non ti sentire come dire ti fai avanti tu quindi adesso io quando farò il comitato studentesco chiederò che siano tutti a partecipare l'anno scorso partecipavano non soltanto quelli dell'industriale erano iscritti anche quelli del traetta però tra da facendo molti si sono persi anche quelli di Terlizzi facevano parte da voi partecipare è chiaro? sì proprio ho detto questa nel nostro istituto molti miei compagni hanno avuto questa sensazione e io ho voluto far portare la voce come dovrebbe fare una presentazione che hanno sempre avuto che però poi nel tempo è stata smentita dai fatti noi abbiamo un vostro alunno adesso non ricordo il nome che addirittura ha inciso una canzone per noi e quella canzone noi l'abbiamo mostrata in un progetto regionale con la Camalleri con tutti i responsabili del scolastico regionale scusatemi ed eravate voi i protagonisti eravate voi i ragazzi del traetta non ci stavano i ragazzi dell'industriale ma eravate voi perché rappresentavate la nostra scuola quindi non sarà così Francesco va bene prof vediamo quest'anno come andrà fate leggere come un attimo prof volevo dire una cosa ragazzo come vedi ho avuto subito piacere anche nel contattarti nel farti rendere partecipe dell'assemblea ma adesso non vi perdete più di vista perché avete tutti i numeri assolutamente a me l'anno scorso in realtà non ha mai scritto nessuno del traetta quindi non avevo manco chi fosse con la scuola io non sapevo nulla l'anno scorso io non me lo ricordo più però ti posso dire che tra l'anno scorso e due anni fa abbiamo fatto delle cose bellissime proprio con le ragazze del traetta che forse ancora sono diplomati ancora va bene allora possiamo chiudere e vi lasciamo tutti quanti liberi in bocca al lupo per domani buone votazioni crepi grazie a tutti buon anno scolato buona giornata ciao